Benvenuti e bentornati, rieccoci qua con Norland, riprendiamo la nostra avventura medioevale, quest'oggi signori dobbiamo andare a risolvere un po' di problemi, perché? Perché dobbiamo compiacere il vescovo, se no la carovana non ciccia più nel nostro villaggio, non arriva più, quindi come facciamo a fare lo scambio di merci e accapararci qualche libro per diventare un pochino più intelligenti, dobbiamo andare a compiacere il nostro vescovo in qualsivoglia maniera, perché intanto il numero dei fanatici ci sta salendo e non va bene perché ci porta a meno 18, se no saremo anche a buon punto, devo dire, con il nostro caro vescovo. Poi sono andato a vedere qui c'è rivalità tra i nobili e mannaggia la miseria Dobroslav contro Rondine, li facciamo combattere, non lo so perché si devono odiare, io capisco che il vescovo per dei bambini può sembrare brutto, girano voci strani, purtroppo ci sono fatte delle piccole credenze su queste cose, però non penso sia il caso di Dobros, si vede, guarda che baffi sotto quella maschera viola, ispira fiducia e poi dobbiamo avviare la produzione di attrezzi che però per il momento non possiamo fare. Quindi adesso tutti sono a nanna perché è notte, io direi che quando si svegliano facciamo parlare, facciamo chiarire il vescovo con Rondine perché sennò ci manda in delirio, il villaggio, codesto chi è? Gavan, attenzione, ah ok, dicevo, è un criminale, è un manigoldo, invece no, è un soldato, questo che cazzo? Fuorilegge? Oh, il fuorilegge, il fuorilegge, il fuorilegge, ma è appena ucciso qualcuno o... Aspetta, aspetta, qua c'è un soldato, no, non mi dire che sta facendo, sta andando a fare qualche cosa di brutto. Ehi, ehi, intercettalo, intercettalo! Ecco, lo sapevo. Intercettatelo ragazzi, intercettatelo! È sparito? Dove è andato? Si è nascosto sotto il letto, non lo so. Ma si può vedere il manigoldo dove sta? Ah, si è messo a dormire. Maledetto, pensavo volesse assassinare qualcuno nel sonno. Che è successo? I guerrieri sono infelici. Dobbiamo compensarli meglio? Forse avrebbe senso costruire un tempio. Puoi anche congedare i guerrieri sebbene alcuni di loro potrebbero insidiarsi negli accampamenti dei fuorilegge della tua provincia. cosa devo fare se siete in morale 7? Beh, è un pochino giù, eh. Licuore disgustoso, sonnolenza, fatica lieve, Madre Sofia mi ha abbandonato, ci servono altri templi, perfetto. Quindi ci tocca fare sto tempio, benedetto, no? E niente. Un'altra cosa che dobbiamo fare quest'oggi è crearci sto beneamato tempio. Io adesso sto vedendo se riusciamo a studiarlo. Rondina dovrebbe andare a studiare il tempio. Se è possibile, in giornata sarebbe una bene cosa fare. Ah, qua avevo messo a costruire il forno per carbone, perché ci servirà per creare il carbone, che poi ci servirà per creare, non lo so, qualcos'altro, che adesso non ricordo sinceramente. Ci svegliamo, che ormai è giorno. Allora, siccome qualcuno qua è successo qualcosa, mi sa. I ragazzini qua hanno intenzione di diventare grandi adulti e scavarsi dalle palle? Eh? Eh? Aspettate, per favore, Dobroslav, svagati per favore, svagati. Trascorri del tempo con rondine, perché sì. Uccidi? Mmm, mi piace. Sfida duello. I personaggi che cercano di terminare il loro rapporto attraverso un duello ufficiale. Rimuove il desiderio di vendetta o di morte dal nemico. Se presentano i duellanti. Uh, interessante, però. Direi che non arriviamo per il momento a tutte queste cose, eh? Che proprio non è il caso, eh? Non è il caso. Andate a fare una passeggiata, schiaritevi le idee, per favore. Ma i malviventi, attenzione. Sono i criminali più pericolosi e sono altamente armati. Possono rubare oro, anelli e libri, oltre a rapire i nobili. I malviventi possono svolgere altri compiti per i vicini ostili, attenzione. I normali vagabondi si trasformano in malviventi con il tempo, oppure osservano le esecuzioni, osservando le esecuzioni. Il loro aspetto non differisce da quello dei vagabondi normali. Sono armati di pugnale che possono fabbricare da soli. A differenza dei vagabondi, i malviventi possono attaccare anche i nobili, oltre ai popolani, attenzione. I malviventi della tua provincia potrebbero essere corrutti dai vicini ostili per svolgere compiti nefasti contro la tua famiglia nobiliare. Suggerimento, non dimenticare di proteggere i tuoi nobili, posiziona uno standardo di pattuglia vicino alle loro case attraverso il menu di costruzione. In realtà noi l'abbiamo messo, nel senso. Qui, anche la pattuglia di urna, dovremmo mettere anche quella di urna, forse. Chissà, chissà. Per il momento va bene anche qui, dai. Penso che vada bene così, non penso che devo mettere ogni standardo a ogni casina, dai. Di giorno non ha molto senso perché gigioneggiano per tutto quanto il circondario, quindi dai. Ritter, i bambini non ricevono educazione. Ritter, mortasci tua, già ti lamenti, guarda qua, sta sempre a mangiare, smettila. Educa. Retorica, maniere, le maniere, facciamo le maniere. Mura, per favore. Dai un'educazione a sto marmocchio qui, che inizia a essere impertinente, come suo zio. Mannaggia la miseria. Allora. Qui si stanno prendendo a cazzotti. Oddio, oddio. Ritter ha ottenuto un nuovo l'idea, commercio, amministrazione. Bene, mi fa piacere, mi fa piacere questo. Va un pochino più piano e avvia la produzione di attrezzi. Attrezzi servono per migliorare l'edificio e produrre oggetti elaborati, come le armi e la carta. Tuttavia la loro fabbricazione richiede la fusione del ferro, che a sua volta ha necessità di carbone. Acquista il libro forno per carbone, studialo e costruisci l'edificio. Acquista il libro della bottega e studialo. Crea un ordine di carbone e attrezzi pari a produci fino a 10. Delirio. Va bene, va bene. Mie cara rondine, mannaggia la misera, sempre con Elena stai. Vai a studiare, Cristo Santo, vai a studiare. Mi serve quel cazzo di tempio, per favore. Su via, eh? Un po' di pazienza anche a te, per favore. Quanti insegnamenti devono fare questi? Che è successo? Addestramento avanzato. Poiché gli allievi non possono superare il livello di abilità del loro insegnante durante l'addestramento, avrai bisogno di assistenza. Se vuoi avere nobili con livelli elevati, sfruttare i vantaggi dei tratti di talento speciali. Vediamo un po'. Invita ospiti dagli insediamenti vicini, molti saranno disposti a fornire lezioni per pochi anelli. Attenzione. Puoi anche rapire un nobile con un talento per lo stesso scopo. Quando si contrae un matrimonio è meglio prestare molta attenzione ai tratti e alle abilità dei potenziali sposi. Beh, giustamente, giustamente. Mi sembra anche giusto, eh? Mi sembra anche giusto. Lado, per favore, vai a gestire il forno per carbone. Per piacere. Poi cos'è che mi manca la bottega, in teoria? Che sto studiando? No. Sto studiando il laboratorio alchemico. Perfetto. Nei libri per caso abbiamo la bottega? Sì, vabbè. Diciamo che Mura ha quasi finito. È di studiarlo al 90%. Vite ha ottenuto un nuovo livello. Insegnamento 5. Lado ha schernito zi. Attenzione, lo ha schernito. Cosa hanno partecipato? A un duello? Grande Lado. Attenzione, l'esperienza. Questo? Scherzo crudele. Perfetto, mi fa piacere. Lado, mannaggia la miseria. C'è schifosa. Gli anelli di Lado vanno di pari passo con questi, no? Lo so, sapete? Non so se abbiamo guadagnato qualcosa schernendo l'avversario qua. Rondine? Rondine. Aspetta un attimo che devo guardar sta qua perché sinceramente 47, 47%. Forse in due giorni riusciamo a cicciarlo fuori il tempio. Desiderio esaurito, bene. Ma in dolce attesa di nuovo. Ma po', miseria. Quanti ne vuoi sfornare? Rondine. Porca miseria. Perché con Ritter sta messo male? Che è successo qua? Effetto degli alcolici. Effetto su tutti i ubriachi. Perfetto, mi fa piacere questo. Ma parli sempre con lei. Va a parlare con qualcun altro. Su via. Eh? Vedi di andare a studiare, per favore. Mi interessa che sei depressa. Devi fare il tuo dovere. Su via. Eh? E allora. Lado ha raccontato una barzelletta. Ok, beh. Si sono pacificati, dai. Attenzione. La carovana, il commercio. È tornato il commerciante. Vite subito. Prima che scappi. Aspetta un attimo. Vite. Vai a fare un giro, va. Olè. Eccoci qua, pronti. Vediamo cosa possiamo acquistare. Pensavo non tornasse più la carovana. Ci siamo messi come la merda. Sta aumentando il numero di fanatici. Come posso diminuirlo? Non lo so. Tassa sui guerrieri. Chiesa di merda. Mannaggia la miseria. Cancelleria. Campo di rap, efficienza, allevamento maiali, commercio civile. Birra aromatica, birrificio migliorato. Che sarebbe? Permette di potenziare il birrificio ai livelli 4 e 5, creando ulteriori opportunità di lavoro. Logistica militare, birra aromatica. Longevità, intelligenza. Mazza, stordente. Ischia. E non lo so. Non lo so veramente. Non lo saprei questa cosa, come andrà a fare. Io sinceramente mi andrei a prendere uno strumento. Che altro possiamo andare ad acquistare che ci possa essere utile, signori? Forse degli anelli. Sapete che potrebbe anche essere il caso di andare ad acquistare degli anelli. Quanti ne abbiamo presi? Cinque. Vai, sei, va. Vai, commercio. Spendiamo solo 56. Va bene così. Va bene così. Rondina non può muoversi. Vite ha ottenuto un nuovo... Oh, commercio 12. Grande. Che sta succedendo? È ubriaco. Di già, no. Ok. Dove è finita? Rondina che non si può muovere. Grazie, Mura. Grazie che fai questo piccolo sacrificio. Vedete? Oh, il Dio no nel forno l'ha infilata. Mannaggia la miseria. Ecco, abbiamo 22 anelli. Vediamo Alados. Infatti, ok. Ok, quindi diciamo che il totale degli anelli lì tiene lui. Poi le possiamo dare... Madonna, sempre più strano questo comunque. Madonna, mi inquieta. Comunque, questo qua. Vai via, per favore. Esci dalla mia proprietà. Ah, ok. Dobbiamo fare la produzione di carbone. Vai con la produzione. Produci fino a 10 intanto. Anzi, fai via 20. Ma sì. Ma sì. Producilo. Producilo, per favore. Chi è che governa qui? Chi è che... Ok, lui. Perfetto. Ancora? Via la produzione. I guerrieri sono infelici. Oh, su via, guerrieri. Cosa devo fare? Cosa vi devo dare per farvi felici? Andiamo a 10 monete al giorno, signore. Per i nostri guerrieri. Su via. Dateci un attimo. Aumenteremo anche l'alcol. Per favore. Per favore. Non capisco... Esile è nobile minore. Non capisco che cosa sia... Quale sia il problema. Che è successo? Viete scoperto un forte desiderio dentro di sé. Quale? Mura ha scoperto un forte desiderio dentro di sé. Sì, ma quale? Squadra di Composite. Puoi mandare due o più squadre alla volta contro un bersaglio nella mappa globale. Per farlo crea la squadra e controlla quelle che vuoi mandare. Queste squadre viaggeranno insieme e parteciperanno alla battaglia come unità separate. In questo modo la seconda squadra può attaccare i combattenti con arco e nemici. Con arco e nemici. Mentre la prima combatte contro l'affanteria. Ok, mi fa piacere. Il prete qui come sta messo? Il vescovo? Vediamo un pochino perché dobbiamo compiacerlo. Magari se gli facciamo parlare con qualcuno... Con chi è che non va proprio da... Con Mura? E anche con Rondine? Male. Immagino che con Rondine non possa... Ah, ok. Risultato. Rondine penserà a Dobras, Dobras penserà a Rondine. Mi ha adulato. Signori, tocca farlo, signori. Prima che ci punisca. E dobbiamo compiacerlo anche perché così la carovana ci darà delle cose un pochino più preziose. Radover ha deriso Mura in modo sarcastico. Ma come si permette? Ma come si permette questo marmocchio? Bisogna insegnargli l'educazione. Educatelo. Come si deve. Ok. E lui è messo veramente male. Scusami, ma se io volessi... Toglierlo? A sto punto, figlio bello, se stai male... Eh, vai via. Non so cosa dirti. Ti congedo. Oh, l'ho trovato. Gli ordini sono vecchi. L'amministratore nobile non visita questo sito da tre giorni. I lavoratori non vedono motivo per compiere sforzi. Pazzo. Ma perché qua la gente si sfotte? Basta tra tutti. Basta. Mura iniziato l'esecuzione del compito educa. Mi fa piacere. Riterò ottenuto un nuovo... Ah, combattimento a livello 1. Perfetto. Posso andare a rompere le palle a rondine? Ma lei mi è incapace di muoversi perché deve sfornare il figliolo qui? Il figliolo prodigo? Guardatela. Mi fa morire che è giù dal letto. Che meraviglia. Che meraviglia. Smetti di cagare il cazzo. Va a studiare, per favore. Questo che è successo? Screzzo crudele. Provole proibita. Attenzione. La provole proibita. Comunque, il figlio di lei è Radover. Eh sì, eh sì. È lei, lei. Vergogna per i peccati. Attenzione. Mi sta vergognando per i peccati. Siamo a meno due col vesco. Non va bene. Non va affatto bene. Per favore, ragazzi. Adulatelo. Lado, vai te. Che te mi fai ridere alla gente, per favore. Fagli quattro barzellette in croce. Ehi. Questo chi sarebbe? Lo sta... Lo sta interrogando. Bravo. Bravo. Mi raccomando. Ulla. Chi è lui? Malvivente. Giustiziatelo, cazzo, sì. Al personaggio viene tagliata la testa. Alcuni vagabondi in attesa potrebbero decidere di diventare malviventi. Abbiamo tanti vagabondi, per favore. Guerrieri. Questi cosa sono? Prigionieri. Due. Vediamo un po'. I popolani vengono puniti dai boie, mentre i nobili vengono puniti immanemente assegnando un compito al monarca. Punire i colpevoli creerà un pensiero negativo per il colpevole, ma allontanerà il perciero dell'impunità del crimine, della vittima e dei suoi cari. Punire l'innocente sarà percepito dagli altri personaggi sotto forma di terrore. La punizione ingiusta di un nobile libero peggiorerà notevolmente i rapporti tra il tuo monarca e tutti gli stati vicino. Accecamento. I popolani vengono puniti dai boia, mentre i nobili vengono puniti immanemente assegnando un po' ok. Ah beh, la stessa cosa in pratica. Tagliategli la testa. Lado, dove sei finito? Basta, parla col vescovo. Sì, sì. Ma ce n'è un altro! Pure! Sì, sì. Forza! Che, che cazzo... Mura e hanno iniziato una riscia. Fermi! Che meraviglia! Lado ha iniziato l'esecuzione del compito punisci, educa. Che meraviglia! L'hanno massacrato di botte. Ma in realtà era... Cioè, non era punisci. Io, in teoria, volevo che facessero un'esecuzione. Non maschera di infamia. Non mi interessa. Lo dovete... Vi dovete tagliare la testa. Vieni qua! Vieni qua, caro! Dove vai? Dove pensi di andare? Dove pensate di andare, maledetti? Malviventi? Non c'è posto, signore. Primo... Sì! Sì! Sì, cazzo, sì! Che meraviglia! Che meraviglia! Senza pietà! Senza pietà, cazzo, sì! Pulito sto schifo, per favore! Che stanno facendo sti due? Di che è stata a parlà? Minchia! È messa male lei! Desiderio di ricompensa! Ma come? Vediamo un po' come è messo lui. Felicità della stupidità, perfetto. Ah, è vero che si bruciano. Sì! Ci siamo? Anche lui? Ci siamo. Ci siamo. È una finta. Ho visto che non sia un vero malvivente, ma che sia chiaro a tutti. Non è concesso essere dei malviventi in questa città. I giocimenti di ferro nelle miniere sono infiniti. Non sono infiniti. Ogni livello di miglioramento della miniera dà accesso a una scorta limitata di ferro. E il costo aumenta di livello in livello, man mano che i minatori devono scavare più a fondo nel sottosuolo. Azzo! Dopo aver esaurito la risorsa a livello 5, la miniera è completamente svuotata. L'unica fonte di ferro è il commercio. Puoi vedere quanto ferro è rimasto nel menu delle statistiche e nel menu della miniera. Ah, però. Andiamo a vedere. Miniera 1. Azzo, solo 50 pezzi su 400. Abbiamo già tolto 400 unità di coso? Miniera 2 non costruita. Azzo! Quindi se miglioriamo la miniera in teoria dovrebbe darci accesso a un nuovo giocimento in poche parole. Ma abbiamo un'altra miniera da andare. Ah, in teoria avremo questa di miniera. In teoria. Interessante, interessante. Speriamo che abbiano capito che non c'è spazio per i malviventi e i vagabondi in questa città. Vide e Netlaya hanno iniziato un'area... Fermi! Fermi! Che cazzo è stato a fa'? Fermi! Mannaggia la miseria! State buoni! Dove stanno andando? Ma no! Ah, ma contro di lui! L'hanno ucciso, per curiosità, sì. Shock da dolore! Serve. Dove lo sto portando? Non è morto, è non nel fuoco. Ok, lo sta portando a casa. Ritter si dà... Ha la musica, perfetto, ci piace. Contro la chiesa, si vede. Contro i fanatici, scusate, ma mi sto perdendo nella meravigliosa vita da nobile. Nobile soffre di depressione, Mura. Ragazzi, però, soffrite tutti di depressione. Io non so cosa dirvi. Allora, diamo una ricompensa a Mura, che magari la solleviamo un pochino di morale, eh. Lado, per favore, va a dare una ricompensa alla povera Mura, che mi soffre di depressione. Forse qualche anellino potrebbe essergli di conforto. Oggi Rondini e Lado andranno in un incontro romantico. Non penso proprio perché Rondina sta per terra. E anche gli altri due. Lado ha ricompensato Mura. Mura il desiderio è soddisfatto. Perfetto. Ti piace, Mura? Va bene? Sei a posto? Oh là. Vami a studiare, per favore. Manca il 3%, per favore. Lo facciamo subito. Eh, scusate, ma io non lo so. Dai, su. Perfetto. Ti adoro. Ti adoro. E mi inizi subito, per favore, anche la bottega, perché la dobbiamo fare, ragazza mia. La dobbiamo fare. Puoi iniziarla subito, per favore, Mura? A quanto pare no. Bene. Ah, giusto, scusate, scusate, è sera. È sera sono quasi le 10, perché non diventa buio? Si vede che è estate. Ho capito che abbiamo fatto il laboratorio alchemico. Abbiate pazienza. I seguenti oggetti sono prodotti qui. Uh, un ettere, un guento medicinale. Un lavoratore può produrre 48, 15. Ok. Possiamo farlo? A dire il vero possiamo farlo. E sinceramente lo andrei anche a fare. Così almeno da avere un pochino di produzione interessante di oggetti, anche da vendere magari. Allora, a dire il vero, noi dovremmo andare in giro per il mondo. Ma non perché siamo esploratori, ma perché forse dobbiamo vedere di... Attenzione, reclutamento nell'esercito, fuori legge. Eh, dovremmo andare un pochino a fare due calcoli qui, eh. Come siamo messi i rapporti, cazzo al lupo, offerta al monarca, offerta di vassallaggio. Sfida l'autorità Zivra e chiedi che diventi tuo vassallo. Attenzione. Se non ha consente ad assoggettarsi entro tre giorni, dovrà attaccare la sua città. Se vinci diventerà tuo vassallo con la forza. Se non attacchi la sua città in caso di rifiuto, tutti sapranno della tua codardia. Minchia. Dato che sei nei buoni rapporti superiori a 15 con il monarca di questo insediamento, quest'azione aggressiva verrà considerato un tradimento sleale. Rapporto con... Perfetto. La protezione della famiglia benevola. Verrà revocata. No, io in realtà volevo vedere un attimo il commercio. Come parte dell'accordo, offre di vendere. 20 non mi interessa. Offre di acquistare. Loro mi acquistano, mi acquistano gli strumenti che ancora non abbiamo la produzione. Uh, abbiamo sbloccato altre zone. Interessante. Interessante. A me piacerebbe attaccare, sinceramente, un villaggino di fuorileggia, a dire il vero. Affronti in battaglia una squadra composta da quattro combattenti leggeri. L'accampamento dei fuorileggia verrà distrutto. Se vinci, libererà gli eventuali ostaggi imprigionati dal campamento. Rapporto con più 5. Il rapporto con i vicini e il vescovo migliorerà. Lo facciamo, signori. Lo facciamo, ma torniamo. Un attimo. E qui. No, tanto l'esercito lo posso andare a vedere qua. Dobbiamo assumere qualcun altro, signori. Vediamo i guerrieri che possiamo assumere. Qua abbiamo i mercenari. Il tizio qua è ancora ingazzito? Sembrerebbe di sì, eh. Sembrerebbe di sì. Ma se noi ingaggiassimo lui, di nuovo, per fortuna cadesse in combattimento, non sarebbe poi una brutta cosa, eh. Dite, anzi, Rondina. Ah, Rondina non può avere. Scusate. Vi faccio venire Lado. Prepariamoci alla guerra. È ancora incazzato. Non si sa perché. Ma basta, basta. Non ci stanno più in quella casetta. È soddisfatta. Aveva le sue cose nel mentre, però. Lado navica anche nel Mar Rosso. Bravo ragazzo. Nuova nascita. Un'altra. Ritter. Ele. Radover. Attora. Attenzione. Un altro è venuto fuori. Mannaggia la miseria. Passa ci sarfegli. Ho capito che dobbiamo farla prole, però sai com'è? Sarà felicissima, Rondina. Adesso Rondina è mia cara. Se non ti metti a studiare, vengo lì e veramente ci penso io a te. Vai a studiare, non mi farei un cazzo se è notte. Devi andare a studiare. Su via. Eh? Guarda qua. Esercito. Vite. Devi andare, te devi andare. Boom. Tutti. Ole. Così mi piace. Perfetto. Crea. I guerrieri assoldati possono disertare e lasciare il villaggio se hanno il morale basso. Al di sotto 25. I guerrieri con il morale alto sopra dell'80 hanno un maggior coraggio. In battaglia una maggior possibilità di diventare lealisti. Io non so cosa farci ragazzi miei perché è così. Se quello sta male, è incazzato col mondo, non è colpa mia. Consigli per migliorare il morale. Lascia che le nuove reclute si abitino alla realtà del combattimento prima di mandarle in battaglia. La paura della morte di un nuovo guerriero svanirà gradualmente con l'addestramento al combattimento. Scegli i nobili con abilità comando elevata per guidare le tue squadre. Non lo augurare i guerrieri con addestramento eccessivo e con pattuglie prima di una battaglia. Paga il tuo esercito sufficiente finché si possa permettere prodotti di alta qualità superiori come la carne e la birra aromatica. Assegna ai guerrieri un tempio separato in cui predicare la fede. Questo li trasformerà in fanatici che amano il dolore. Bello. Tuttavia questa è la strada pericolosa se non hai buoni rapporti con il vescovo, poiché i guerrieri saranno dalla sua parte in caso di rivolta religiosa. Inizia a diffondere il terrore contro la cultura che i tuoi guerrieri odiano e persegui politiche allineate ai loro valori culturali. Abbiamo creato l'esercito. Attenzione. Che fanno? Non mi dire che già c'è la rivolta. Desidera ricompensa. Allora se torni vincitore da questa cosa... Minchia morale 1. 34, 44, com'è cicatrice? Mannaggia la miseria. Forse dunque signori miei. Andiamo. Mondo, vediamo se possiamo farlo già adesso. Attacca. Attacca. Una mappa... Questa qua. Pazzo... Eh, non siamo messi bene. Non siamo per niente messi bene. Mmm... Congediamoli. Non siamo... Non siamo pronti per questo. Paura della morte. Mannaggia la miseria. Schifosa. Desiderio è cresciuto notevolmente. Quale desiderio, scusatemi? Desiderio di vedere una persona cara. Ehm... Come confessati? Che è successo? Educa, svago. Trascorri del tempo con... Con rondine. Allora, che cazzo ti devo dire? Magari dopo aver dato gli ordini magari, eh? Che dici? Trascorri del tempo con mura, dai. Anche se... Rondine è il tempio però. Su via, ragazza mia. Adesso non per qualcosa, però noi dovremmo anche avere un esercito che faccia il suo lavoro, no? Eh, che cazzo, scusate adesso, per carità, però... Ehm... È possibile, no? Aspetta un attimo. È possibile reclutare dei mercenari magari pagandoli? Come giusto che sia? Questo qua mi ispira, però, eh? Sinceramente. Vai. Vai. Diffamazione ha il suo prezzo da pagare, richiede buoni rapporti con la vittima, ma a volte è l'unico modo per distruggere uno stato vicino forte senza ricorrere alla forza. Peggiorando i rapporti tra i tuoi vicini puoi farli scendere sotto il 25 e lì si converte in ostilità. Se si tratta di rapporti tra monarchi indipendenti, ciò significa che è l'inizio di azioni militari. Se si tratta di un rapporto tra un vassallo e un sovrano, il vassallo si ribellerà. Se si tratta di un rapporto tra un membro dell'alleanza e il suo capo, il membro lascerà l'alleanza. La diffamazione è disponibile in una sezione politica. È un delirio. Vediamo un pochino come siamo messi qua tra tutti, eh? Degli altri var ne abbiamo qualcuno. Ecco qui. Possiamo provare a fare una caccia al lupo. Vai Lado, mio caro. Vai pure, va. Che abbiamo fatto? Fertilità del suolo è inizialmente la mappa su cui si trova la tua città presenta un certo equilibrio ecologico. Tuttavia, ridurre gli alberi a meno dell'80% del loro numero originale porta a una diminuzione della fertilità del suolo, poiché gli alberi proteggono il terreno dall'erosione. Questa a sua volta riduce la produttività dei campi e la raccolta delle erbe nella foresta. Azzò. La foresta ha la capacità di rigenerarsi. Nuovi alberi compaiono accanto ad altri. Quindi più grande è l'aria della foresta, più velocemente si rigenerano. Tuttavia, man mano che la tua città cresce, dovrai fare una scelta tra la fertilità dei campi e la raccolta intensiva di legna. Compensando la mancanza di alcune risorse attraverso il commercio esterno. Puoi vedere il livello attuale di deforestazione e fertilità del suolo nel menu statistiche. Ammazza ragazzi quante cose stiamo scoprendo oggi. Foresta battuta il 20%. Fertilità del suolo per il momento 100%. Quindi direi che va bene. Direi che va bene. Ok. Allora. Bene. Abbiamo mandato l'ado in viaggio. Nettare dipendenti. Questo personaggio è dipendente dal consumo di nettare. Oddio mio. Ah qua non abbiamo mai messo nessuno a dire il vero. Brondina, va a fare un salto qua per favore. Qui così almeno possiamo dare via alla produzione di nettare. Quando il nettare è in circolo il personaggio si muove più velocemente. Le sue abilità sono potenziate di 3 e l'efficacia produttiva dei lavoratori dipendenti aumenta del 30%. Il personaggio inizia a provare una forte desiderio di nettare ogni giorno. Cioè accompagnato da un forte pensiero negativo e da dolore fisico. Che si intensificano ogni giorno finché il personaggio non si consuma il nettare. Subito dopo il consumo c'è la probabilità che il nettare dipendente vada a incollere e attacchi il personaggio più vicino. Con il tempo questa probabilità aumenta. I nettare dipendenti possono essere riconosciuti perché indossano una benda. Sviluppano infatti un'elevata fotosensibilità. Attenzione, drogati. Combattere la dipendenza. Se un nobile nettare dipendente ha un esaurimento nervoso c'è una piccola probabilità che il personaggio decide di superare questa dannosa abitudine. Un altro modo per affrontare la dipendenza è limitare il consumo di nettare nel menu della dinastia. E sperare che la dipendenza passi in pochi giorni. Ok, per il momento l'abbiamo negata in teoria. A dire il vero. Non stiamo andando bene comunque con il nostro vescavo. Vescavo. Attenzione, vescavo. Vita, va a fare due passi col vescovo, per favore. Eh, su via. Ho ottenuto un nuovo livello in commercio e amministrazione. Perfetto, mi fa piacere. Dopo te, mia cara rondina, mi devi per forza andare a studiare. Perché adesso, non per cattiveria però, per favore. Eh? Vediamo di andare a studiare dentro quella biblioteca. Eh? Su via. Chi è questo? Chi è costui? Lado ha lasciato la provincia, il messaggero ha lasciato la provincia. Ah, forse il messaggero sta andando qua perché ho dato, diciamo, disdetta del commercio con i lingotti d'oro. Anche perché non abbiamo più bisogno, visto che comunque abbiamo fatto la miniera. Come sta andando la ragazza, signori? Perché dobbiamo vedere un pochino come sta andando. Beh, maniere 4, commercio 3, persuasione 3, intelligenza 1, amministrazione 3, insegnamento. Io non so se poi, una volta diventato adulto, queste abilità, diciamo, avranno un ulteriore bonus. Quindi andranno un pochino più in alto, ma si spera, si spera così. Rondine, mannaia alla miseria. Però pure tu. Eh? Su via. Su via. Mi devi finire il tempio. Guarda, il 93%. Vai, vai, vai a studiare. Brave, brave tutte e due. Mura quanti anni ha? 36, Rondine ne ha 30. Bene. Dai, 99. Grandi, grandissimi. Subito, ragazzi. Subito. Oh la madonna. Che meraviglia. Dai, sì. Ci sta, mi piace. Quanto serve? Tischia. Eh, parecchio serve. Una nuova conoscenza appresa. Tempio, lo sappiamo. Lo sappiamo. Adesso, Rondine, ti puoi svagare. Vedi, ho ottenuto un nuovo livello. Insegnamento 6. E Elena non lo sapremo mai. Eh, il desiderio della carne. Mi dispiace, mia cara, ma non posso... Cioè, la carne in un altro senso sì, ma nella carne da mangiare no. Purtroppo non possiamo. Eeeh, ok. Il carbone, quindi, ne abbiamo fatto 20. Allora, guarda, magari... Arrivi a 40. Lunguento, magari. Produci X. Producimene 10, vai. Che non si sa mai. Sono arrivati due migranti. Grande. Muro e vita andranno in un incontro romantico. Ok, è lasciata la provincia. Perfetto. Fuori dalle palle. Sentite. La danza. Tutti incazzati qua, stanno. Io non so come... Come aiutarvi, a dire il vero. Proviamo a fare una locanda solo e unicamente per i guerrieri. Cosa dite voi? Potrebbe essere una soluzione per i nostri combattenti. Sennò qua non riusciamo a combattere con nessuno. Perché stanno sempre male, questi poveri disgraziati. La locanda, guarda. Del pulido impennato. La facciamo di fianco alla prigione. E ci può stare. E diamoci una mossa, ragazzi. Diamoci una mossa. Dalle sette non si lavora più, giustamente, giustamente. E anche tardi, eh, per essere. E anche tardi, e anche tardi. Te come stai messa? Allora, i peccati... Te, mia bella, mi dispiace, ma vati a confessare. Per favore, cioè... Veramente. La carovana! La carovana! Vite! Adesso che sei anche di livello dodici. Vai, per favore. Vite? Vite? Non stiamo commerciando vite, a dire il vero. Vite, iniziata l'esecuzione, il compito commercio. Elena ha raccontato una indescrizione su mura a vite. Bene. Non mettere zizzania tra i due. E niente, lei l'ha messa, invece. Allora, vediamo un pochino. Che cosa possiamo andare a fare. Allora, intanto io mi vado a prendere... Cioè, permettete un po' di anelli. Magari li vendo un po' di birra, perché... Ci potrebbe stare. Qua li vendo un po' di... Di grano. Un po' di segale, diciamo. Le rape. Gliene andiamo a vendere volentieri. Guarda, guarda. Vai, vai, vai. Vendi, gliene, vendi. Vaffanculo, va. Libri. Vediamo un po'. Cancelleria. Nettare. Fertilizzazione corretta. I campi consumeranno la metà della quantità di legno. Metodi di semine e di trattamento del terreno che eliminano le perdine del raccolto durante la siccità. Accelera il movimento dell'esercito, il 50%. Allevamento di maiali. Ecco, questo a me non dispiacerebbe acquistarlo, a dire il vero. Eh sì, eh sì. Cancelleria la prendiamo, perché c'è utile per gestire tutte le strutture. Eh, anche queste comunque non sono roba da poco, è a dire il vero. Ma sti fioreline, ragazzo, le prendiamo, scusatemi. Adesso viene utilizzata per la produzione di altre risorse. Mi fa piacere, mi fa piacere. Per il momento rimaniamo così. Magari altre due lance, visto che comunque sta arrivando un mercenario nuovo. Oh, che altro? Che altro posso magari vendere? Un'altra cinquantina di questi. Commercia. Boom. Bravo vite. Bravo vite, cazzo. Lei si è confessata, la ragazza? Desiderio esaurito. Eh, esaurito, sì. Esaudito. Ok. Basta, eh. Tradire tuo marito. Per favore. Eh? Capisco che non ti piaccia, però. Su via. Se poi devi star male perché hai i risentimenti. Questi che cazzo stanno a fa? Che cazzo fate qui tutti quanti? È una rivolta? Cosa stanno facendo? Stanno tirando i dadi. Che cazzo stanno facendo? Qui c'è bisogno di fare vedere chi comanda. Lado non l'ha fatto questo perché è andato via. È andato in missione. Lado quanto mi ti ci vuole a tornare indietro, mio caro? Che poi dov'è che è andato? È andato qua, Lado, vero? Come sta andando? Olla. Lado ha completato la caccia. Si può avere un... Un resoconto. Ha completato con successo il compito di... Uh, grande, Valle Astra. Ed è già a disposizione per nuovi incarichi. A me interessa che... Interessi che torni al villaggio sano e salvo. Nulla di più. Io faccio fatica comunque a stare dietro ai marmocchietti e a insegnargli la loro... Profezie severerà presto. Fanatici giallo... Giallo? Già? Cosa? Secondo la profezia della chiesa, tra pochi giorni le tue terre saranno colpite dal seguente disastro. Una strana setta in cui si crede che il consumo di net era vicina Madre Sofia deciderà di trasferirsi nella tua città dopo essere stata espulsa dal luogo in cui resideva in precedenza. Per cinque giorni... Ogni giorno arriveranno nella tua città altri tre, sette fanatici nettari dipendenti. Inoltre appartengono tutti alla cultura Kaiden. E come posso io... Fermare questa cosa? I guerrieri sono infelici. Io fra un po' li uccido, i guerrieri. Che mi stanno sulle palle. Vi dico la sincera verità. Cioè, io più che darvi una lauta ricompensa non so che cazzo fare con voi. Provo di nuovo a... Ad alzare qui il coso. Ma perché non se lo caga nessuno qua? Ah, perché... E Lado. Porco Giuda. Lado torna per favore, ci manchi. Non sappiamo cosa fare senza di te. Dove cazzo sei Lado? Su via, datti una mossa per favore. Mannaggia la miseria. Allora, ci stiamo espandendo, stiamo facendo il tempio. Stiamo facendo un'altra locanda che verrà dedicata solo e unicamente ai nostri cari guerrieri per dargli un pochino di forza in più. Che cazzo è successo ancora? Guerrieri sono infelici. Vite, cosa succede? Soffri di depressione? No, ma come soffri di depressione, mio caro? Cosa c'è che non va? Quale ossessione? Scherzo crudele. Rissa. Confessati al Vescovo. Confessati, vaffanculo. L'ho andato a svegliare addirittura. Non vedeva l'ora di confessare qualcuno, il Vescovo. Voglio vedere se aumenta magari la sua cosa qui. La sua felicità. Un po' è aumentata, sembrerebbe, a dire il vero. Quindi io le di Lado. Perché meno tre, scusami? I cavalieri erano degli sfortunati nobili liberi che hanno deciso di darsi alla carriera militare. Possono guidare una squadra al posto dei tuoi nobili. In questo caso la loro abilità a comando è pari al 5. Come gli altri mercenari si possono arruolare tramite il menu. Ah, lo sapevamo, vabbè. Quindi quelli sarebbero cavalieri. Se il mio caro governante qui, se il mio caro regnante torna indietro, il mio caro Lado, dov'è? Dov'è finito adesso? A che punto è della sua... Si è fermato qui? No, eh? Oddio. Ho ottenuto un nuovo livello, maniera e insegnamento. Perfetto, mi piace. Io non trovo il mio Lado. Dov'è finito? È ferito? Com'è ferito? Lado, per favore. Vatti a curare. Commercio qui? Basta commerciare, basta. Non ha più senso. Olè, perfetto. Birra? Sbaglio. Il liquore non lo mettiamo, dovrebbe essere la cosa più scarsa, sinceramente. Il bisogno di riposo. E la birra soddisfa il bisogno di riposo, anche quella. Non lo so se lasciarglielo tutte e due oppure... Ah, lasciamo dire tutte e due, dai. Priorità per il momento. Così magari possono andare tranquillamente a scherzare, a ridere sui vari pattugliamenti, così hanno il loro posto felice dove andarsi a ritrovare. Una conoscenza presa a bottega. Grandissima. Grandissima. Madonna, Mura non smette mai di stupirmi, devo dire. Prima però di tirar su la bottega, visto che comunque devono fare ancora il tempio, l'allevamento di maiali sarebbe il caso di studiarla. Mura, te che sei veloce, non come quell'altra, perdi giorno. Vediamo di farla studiare a te. Cosa dici? Rondina, la cancelleria, per favore. Cottura della carne. Eh, vabbè, prima dobbiamo fare l'allevamento di maiali, se vogliamo così. Perfetto. Questo possiamo farlo studiare a qualcuno? Non penso proprio. Allora, te è giusto che vai a dare in giro un bel po' di compiti. Ok, lo sta già facendo. Guardate, l'ado è meraviglioso. Però io vorrei che si curasse più che altro. Oh, finalmente il birrificio. Smetterà di rompere le palle. Vediamo un po' quando è finito. Sembrerebbe di sì, bene. Sì, 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 arriva l'ado. Fa tutto adesso l'ado. Ho ottenuto un nuovo livello in maniere. L'ospite ha raggiunto lì. Ok, di nuovo. Ci tiene al nostro insediamento. Ci sta... Che sta succedendo? Cosa sta facendo il prete di lui? Chi è questo, poi? Ha reso omaggio al monarca. Vita ha iniziato l'esecuzione del compito. Educa. Tratti. Tifo delle rape. Il personaggio ha contratto il tifo delle rape che a volte si manifesta a seguito del consumo di rape crude. Il personaggio è sopravvissuto alla crisi della malattia e si trova nella fase di recupero durante la quale i suoi movimenti sono rallentati. Mamma mia. Non è nomine amministratore. Ma non è nomine amministratore? Miscredente. Ma vorrebbe dire questo? Lo facciamo devoto? Non lo so. Penso di sì. Sennò il vescovo poi ci picchia. E vabbè, per il momento lo facciamo devoto. E a sto punto mandiamo l'ado, visto che ha la padronanza necessaria. Dobrovslav, sei contento che c'è il tempio? Oggi i rondini andranno non incontrano, ma basta, ci c'è fuori i figli. Basta. Allora, io devo un attimo ricompensare vite. Ci sta. Va ricompensato, ragazzi. Va ricompensato. Se trovo come cazzo si fa, dona al monarca. Ricompensa. Apprezzo quello lì. Lado è tornato e già non ne può più. Vorrebbe ripartire per un lungo viaggio. Oh là. Sei contento, mio caro vescovo? Eh? Dai. Dai gli sta ricompensa, così smette di rompere i coglioni. Sei contento? Oh là. Mi fa piacere. Mi fa piacere questo, mio caro. Mi fa veramente piacere. Da quanti anelli è arrivato? Ok. 20 rondine? Porca miseria schifosa. Chiedi perdono. Costo 15. Per grazie di madre soffia il vescovo del discosto ad ascoltare e perdonare la trasgressione del personaggio. Si dimostrerà la sua sincerità attraverso. Minchia. Non si può confessare, quindi. Porca miseria. Io non lo so come posso fare con lei. Ma poi quando crescono gli altri? Che anelli gli diamo? Scusatemi, eh. Non per dire, però. Come stanno messi i miei guerrieri, eh? Mannaggia la miseria. Non stanno messi bene, non stanno messi bene. Ma posso aumentare magari... Qualcun qualcosa di buono per loro? No? Niente, dobbiamo metterci dietro a tirar su l'allevamento di... Madonna santa! Oh, quanti, quanti! Sentiteli. Il rosario. Va bene. Va bene, va bene. Guardali. Dai, sarete più felici. Hai smesso di rompere i coglioni. Il tuo morale sta salendo, ventic... Oh! Vedete? Piano piano, ragazzi. Piano, piano. Te ti puoi curare comunque i graffi, eh? Non per dire, ma ce l'abbiamo lunguento. Guarda, ne stiamo producendo... a meraviglia, a meraviglia. Qui stiamo producendo il carbone. Aspetta. Costruzione. Cosa abbiamo? Ah, la bottega, giusto. Ah, possiamo creare anche le armi. Bene, 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 bene. La bottega io, signore, andrei a fare qua. A dire il vero. Stare vicino al villaggio la roba. Se no, non va bene, non va bene. Io volevo fare una piccola cosa. Costruzione, strade. Magari andare a... mettere anche la strada, se permettete, alla biblioteca, perché ci sta. così che le scarpe dei nostri nobili rimangano integre. Magari, forse, che dite, eh? Anche intorno al tempio, visto che è comunque una cosa importante per loro, io direi di farla. E a sto punto, visto che qua comunque sono le case dei nobili, andiamo a fare anche questo. stiamo spendendo tanto, eh? Ma tanto. Troppo anche, forse. Problematiche particolari? Oh, figa, ragazzi. Oh, figa. Eh? Allora. Facciamo una roba. Per il bene di rondina, eh? Chiedi perdono. Chiedi perdono, per favore. Alla prossima carovana acquistiamo altri anelli e glieli diamo in dono. Tanto non succede niente. Oddio. Ma perché vanno qua? Che è successo? Il terreno di coltivazione, se lo so, deve essere fertilizzato. Bene. Dovrebbe servire del... del legno, in teoria. Ok. Qui la produzione di ferena sta andando avanti. Che altro? Che altro? Il tempio l'abbiamo fatto. Chi qua? Chi deve andare? Lado. Ok. Le decorazioni si pagano? Ah, ma che figata. Quindi si possono mettere... Ho sentito qualcosa. Attenzione. Oh là. Chi sono questi? Fuori legge. Volevano uccidere il sacerdote. Probabilmente ha toccato i suoi bambini. Spacciato addirittura. E poi? Questo chi è? Disoccupè. Boom. Chi è lei? La taglia legna. Attenzione. Maldisco che fa cazzotti. Che meraviglia. Picchiatelo. Picchiatelo. Non si merita di vivere. Stordimento. Ehi. Boom. Basta. Ferita al viso. Perdita della mobilità. Sospetto. L'hanno massacrato ragazzi. L'hanno massacrato. L'hanno massacrato. Il potere della fede. È morto? È morto. È stato meraviglioso tutto questo. È stato veramente meraviglioso. Eh già. Eh già. Sottomontagna ci regala meravigliose esperienze. Te come stai messa mia cara? Ti sei un attimo eh? Hai perso tutti gli anelli perché sei cogliona? Oh là. Perfetto. 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 Devo dire che sta abbastanza bene. Dai. Agnostici. I personaggi felici e quelli che hanno ascoltato il sermone miscredente al tempio hanno maggiori possibilità di diventare agnostici. Gli agnostici mantengono un pensiero negativo costante. I pensieri negativi provenienti dai peccati scompaiono tre volte più velocemente. Ah attenzione. Rendendo gli agnostici utili per eseguire azioni di dubbio e moralità sulla mappa globale. Gli agnostici sono disprezzati dal vescovo e disprezzano e sono disprezzati a loro volta dai fanatici. Ok. Ok mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Solo che rondina è così. Cosa ci vuoi fare? Eh? Cosa ci vuoi fare? Più che farla parlare col vescovo e farla... E chiedere il perdono io non posso fare nient'altro. Fanatici giallo. Perfetto. Io non so come affrontare questa cosa. Speriamo che almeno l'esercito sia messo bene. Sembrano messi meglio eh adesso. Sembrano messi meglio eh. E questa cosa mi fa molto piacere. Direi che... Per questa puntata è tutto perché stiamo andando davvero tanto avanti. Qua ci siamo quasi all'ambizione del monarca eh. Siamo a 96. Piano piano ce la faremo. Direi di fermarci qui perché siamo andati avanti parecchio. Abbiamo portato nel nostro villaggio un tempio per volere di vino. E una bottega che adesso verrà costruita. Il forno a carbone per fare il carbone giustamente. La bottega poi per fare gli strumenti che poi andremo anche a vendere. Perché quello è l'importante. Perfetto. Questa è la lucanda dei nostri militari. Così smettono di essere incazzati. Più o meno. E stiamo studiando l'allevamento dei maiali. Per fare anche la carne. Poi andremo a studiare anche la cottura della carne. Cancelleria per aiutare i nobili a gestire tutte le strutture. Perché sto vedendo che iniziano a non starci più dietro. La prossima volta magari andiamo a attaccare con il nostro esercito qualche villaggino di fuori legge. Giusto per farci qualche risata. E anche perché ce n'è bisogno giustamente. Dobbiamo accontentare il vescovo. Se liberiamo dei prigionieri accontentiamo il vescovo. Cosa che dobbiamo fare assolutamente. Quindi io come al solito vi invito a lasciare un mi piace. Un commentino per farmi sapere la vostra. E qualche consiglio se lo avete. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.